Assessore, c'è stato il maltempo che ha sferzato un po' tutta la penciata di Grigento. Canicattì comunque ha risposto bene a quella che è stata una vera e propria emergenza. Questo dietro cosa c'è? Un lavoro di preparazione, anche un lavoro di ricerca di quelle che potrebbero essere le problematiche. Ricordiamo che di acqua ne è piovuta e che siete stati costretti anche a chiudere le scuole. Sì, questo in effetti è il terzo allarme, la terza emergenza a cui io sono stata sottoposta da quando sono Assessore. La città, così come si dice con gergo tecnico, ha retto, nel senso che tutte le attività che sono state predisposte come preparatorie ad eventi meteorologici di questo tipo hanno funzionato, soprattutto la pulizia del canale di scolo delle acque, mi riferisco a Via Giglia e non soltanto a questo, la parte del tratto di Via Nazionale, le caditoie e i tombini all'interno del centro abitato. Ci sarà ancora da fare perché la pulizia ha riguardato circa l'80%, c'è ancora un 20% che va monitorato e pulito. L'obiettivo è quello di arrivare entro fine anno a completare tutto quanto e soprattutto a ripristinare la funzionalità della rete fognaria per quanto riguarda la parte a nord, cioè la parte di Borgalino e dell'area a nord, solo per evitare che l'acqua piovana possa arrivare nella parte bassa e quindi intasare ciò che già è stato monitorato e pulito. Devo dire che le due ordinanze di chiusura delle scuole, del cimitero, delle aree con il mercatino, delle aree diciamo di affluenza della gente, si sono rese necessarie per la ingolumità della gente, dei bambini in primis a cui noi teniamo particolarmente. Non è assolutamente pensabile che quando arriva una segnalazione di rischio ci si possa in qualche modo cullare sul fatto che probabilmente non succede niente. Noi dobbiamo prevenire in modo tale da evitare poi tragedie che sono irrimediabili e che causano danno alla città in generale ma ai nostri congittadini. Imponiamo naturalmente che è stato fatto un sopralluogo prima dell'annuncio di riaprire le scuole perché comunque qualche infiltrazione c'è sempre, vista insomma anche l'entità dell'acqua caduta. Allora i problemi non sono nuovi, i problemi delle infiltrazioni nelle coperture delle scuole purtroppo riguardano una situazione che ormai esiste da decenni alla quale stiamo cercando di rimediare con i progetti di efficientamento energetico che prevedono la sostituzione e l'integrazione di tutte le coperture. Ovviamente l'ufficio tecnico nella persona dell'ingegnere Meli, del geometra Bertolino ma anche dell'ufficio manutenzione sono andati in giro per tutte le sedi istituzionali comunali delle scuole, hanno verificato se fossero verificati i problemi particolari. Di grave non c'è niente e quindi è stato concesso la riapertura delle scuole ma ci stiamo attivando per due situazioni particolarmente delicate che abbiamo riscontrato e che gli uffici sono già pronti per elaborare un progetto di manutenzione con urgenza. Tecnicamente le scuole di Canichetti sono agibili? L'agibilità è una cosa che è diversa. Tecnicamente? Tecnicamente l'agibilità non è mai stata verificata con i certificati di collaudo per quanto riguarda le scuole che sono di recente realizzazione che noi abbiamo trovato agli atti. Le verifiche in alcune sono state fatte, sapete benissimo che due di queste scuole non avevano i requisiti per essere aperte e sono state chiuse e a breve inizieranno anche lì i lavori perché sono stati finanziati gradualmente stiamo verificando le altre in modo tale da avere la possibilità di monitorare tutto il patrimonio edilizio scolastico della città con una finestra particolare che è già aperta con l'assessorato alla pubblica istruzione che con una cadenza di solito trimestrale ci chiede informazioni sia sull'agibilità, sulle condizioni e sulla presenza per esempio di amianto per dire una cosa specifica che stiamo monitorando e che abbiamo trovato solo in delle vasche come recipienti idrici in una scuola soltanto. Invece per quanto riguarda l'andingendio ci sono stati dei progetti sono stati finanziati, adesso si porteranno a compimento. Sì, l'andingendio abbiamo già dato parere amministrativa in giunta su tre degli undici che sono stati approvati e già ce ne sono altri due pronti e di questi tre che abbiamo già dato parere l'ufficio sta predisponendo le gare quindi entro dicempre almeno questi saranno cantiere aperti.